Nuovo ospedale con la tecnica del cuci e scuci, nuovo polo vaccinale in fiera, servizio ospedalieri al Negri Sud a Santa Maria in Baro e per ultima la casa di comunità vicino alla ex sede ASL. In poco più di un anno l'Aggiunta Paolini cede per quattro volte le richieste dell'ASL di Chieti, la denuncia dei gruppi di minoranza in consiglio comunale a Lanciano. Nel Mirino c'è la permuta tra comune e ASL di due immobili, l'ex ECA in via Silvio Spaventa e l'ex centro vaccinale in Largo San Giovanni nel quartiere storico di Lanciano Vecchio. Punto all'ordine del giorno dell'ultimo consiglio comunale in cui la minoranza si è astenuta con Piero Cotellessa che ha votato contro. In conferenza stampa i consiglieri di opposizione sottolineano anche la mancanza di immediata eseguibilità della delibera comunale come si evince sull'albo pretorio del comune di Lanciano. La delibera è stata votata da 12 consiglieri sui 13 necessari per la maggioranza assoluta, quindi, dicono dai banchi della minoranza consigliare, andando oltre i termini previsti dalla ASL con cui è stata giustificata la convocazione d'urgenza della commissione consigliare in 24 ore. Una GAF istituzionale la definiscono figlia della superficialità della maggioranza di centrodestra che potrebbe inficiare l'intera documentazione prodotta dalla ASL provinciale. Per il consigliere comunale Piero Cotellessa è un'operazione tutta in perdita per il comune. Sarebbe stato invece utile prendere 600 mila euro dalla ASL e portare tutto a Palazzo 900. Io personalmente contesto già lo scambio, la permuta che non è stata fatta, secondo me, con dei valori che danno un giusto rapporto tra i due mobili permutati. Quindi il comune di Lanciano, secondo me, ha perso dal punto di vista patrimoniale con questa permuta. Poi successivamente ci sono anche problemi strutturali del quartiere, dal punto di vista urbanistico per i parcheggi. Tanti cittadini oggi si recano presso il distretto sanitario di base, presso l'ospedale per avere dei servizi con l'automobile e domani avranno difficoltà a parcheggiare per raggiungere questa nuova struttura. Sicuramente sarebbe stato più opportuno chiedere 600 mila euro in contanti e non permutare un immobile che al comune non darà vantaggi, per invece ristrutturare gli edifici di proprietà già del comune, come per esempio Palazzo 900 che va completato.